Si sta per chiudere un primo ciclo della stagione del calcio di Letteante, una delle più lunghe di sempre. La Serie D si concretizza al San Martino Domenica di Maiori. Il Costa Ramalfi dopo l'1-1 dell'andata di Bisceglie si aggrappa al fattore campo e al doppio risultato per accedere in quarta serie. La squadra di Mister Proto è ad un passo dal sogno. Basterà non perdere e pareggiare per 0-0 ai costieri. La news che però rimbalza dalla Puglia è che la società, nello stellato del Bisceglie, avrebbe chiesto il cambio di campo. L'impianto di Maiori non è grandissimo e da Bisceglie sono previsti tantissimi tifosi. pronte a sbarcare in costiera amalfitana. Le prossime ore saranno decisive per un eventuale cambio di campo, anche se il Costa Ramalfi vorrebbe regalarsi davanti ai suoi tifosi una domenica magica, la più importante da quando è stato fondato. Per quanto riguarda la prossima stagione, inoltre, il Consiglio Direttivo del Comitato Campano ha stabilito che nelle singole gare di attività ufficiale 2024-2025 le società partecipanti ai campionati di eccellenza e promozione avranno l'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della partita e quindi anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più giocatori almeno due tesserati nati dal 1 gennaio 2005 e dal 1 gennaio 2006.